sono il dottor giuliano angeloni odontoiatra applicatore taupecci lavoro come libero professionista nella mia città di roma e collaboro da tanti anni con l'istituto di scienze e medicina dello sport dove mi occupo della diagnosi e della terapia delle disfunzioni cranio cervico mandibolari posturali su atleti di medio ed alto livello attaccato a un dente esiste un essere umano questo è il mio hashtag ed è proprio in quest'ambito che ho conosciuto studiato e provato ad usare la più interessante ed innovativa tecnologia utile per la salute che migliora l'equilibrio neuromuscolare posturale e migliora la funzione di tutto il sistema proprio obiettivo mi sono appassionato al punto tale che l'ho immediatamente inserita all'interno dei miei protocolli terapeutici odontoiatici e posturali oggi il taupecci fa parte quotidianamente della mia vita professionale diventando insostituibile ed aiutandomi a trattare e risolvere disfunzioni e distonie del sistema posturale che precedentemente mi era impossibile migliorare sono tanti campi di applicazione dove introducendo la nanotecnologia ho sicuramente trovato dei benefici per esempio mi prepe sottolineare la capacità dimostrata dalla nanotecnologia nel controllo dell'infiammazione del dolore e dell'edema post trattamento chirurgico nel cavorale come per le terapie implantoprotesiche o come per l'estrazione degli elementi dentali inclusi oppure in aiuto nelle infezioni algiche acute sia di origine endodontica che paradontale con immediato effetto antinfiammatorio e antidolorifico in attesa che la terapia farmacologica riduca la carica batterica e quindi la clinica inoltre mi ha facilitato grazie all'effetto neuromodulante la risoluzione dei lock acuti e cronici a carico delle articolazioni temporomandibolari patologia sempre più in aumento a casa della cronica attivazione dell'asse dello stress che induce parafunzione dei muscoli cranio mandibolari oggi il tau patch è diventato uno strumento insostituibile nel trattamento delle disfunzioni cranio cervico mandibolari grazie all'effetto sulla rimodulazione neuromuscolare del sistema proprio scettivo riducendo anche i miei tempi di intervento a studio migliorando il mio rendimento operativo durante la giornata di lavoro la nanotecnologia grazie ai suoi effetti sulla salute ha ridotto il numero delle mie prescrizioni farmacologiche di antidolorifici, antinfiammatori, mio rilassanti, antidepressivi un cambiamento radicale anche in ambito posturale dove utilizzi dispositivi per ritrovare in tempi più brevi un nuovo equilibrio generale ed ottimizzare così la funzione dei ricettori posturali la nanotecnologia tau patch ha quindi enormemente migliorato il mio modo di lavorare ampliando i protocolli che utilizzavo con combinazioni di terapie capaci di dare in tempi più brevi risposte cliniche stabili ed efficaci raggiungendo così in minor tempo la stabilizzazione generale del paziente sia in ambito dontoiatrico che in ambito posturale dove è diventata la prima scelta per il controllo delle disarmonie posturali lavorando direttamente sul software biologico migliorando la comunicazione tra il nostro sistema nervoso centrale e la nostra periferia in un mondo dove gli inquinamenti elettromagnetici stanno sempre più disturbando il funzionamento e la comunicazione fra il nostro sistema nervoso centrale e il nostro sistema proprio scettivo. Inoltre cosa da non sottovalutare dopo la terapia svolta a studio il paziente può indossare la nanotecnologia anche a casa continuando quotidianamente a ricevere gli effetti benefici del piano di trattamento.